Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi torniamo a parlare di EZ-Viz, questo marchio che ho portato tanto qua sul canale perché è un marchio veramente apprezzato sia da me che da voi, perché so che tanti di voi hanno acquistato appunto i prodotti EZ-Viz e ne sono contentissimi. È un'azienda che è partita nel produrre telecamere di videosorveglianza ma che adesso ovviamente avendo un catalogo infinito dal punto di vista delle telecamere sempre riguardante le abitazioni sta producendo altre tipologie di prodotti. Ovviamente il loro obiettivo è integrare i loro prodotti nelle nostre case, quindi sono tutti prodotti che vanno a migliorare appunto il nostro benessere all'interno della nostra abitazione e quindi nell'espandere la loro tipologia di prodotti hanno deciso di produrre prodotti come questo. La scopa RH1, un prodotto ragazzi pazzesco, pazzesco che appunto essendo un prodotto EZ-Viz e mantiene la qualità dei prodotti per quanto riguarda le telecamere EZ-Viz, ma questa qualità è stata portata in una scopa che aspira, lava e asciuga tutto in maniera semplice e soprattutto di una facilità incredibile. Ma prima di piegarvi nel dettaglio cosa è in grado di fare questa scopa di EZ-Viz che vi cambierà sicuramente la vita se l'acquistate per quanto riguarda la pulizia della vostra abitazione e sicuramente la vostra compagna e vostra moglie ne saranno contentissime perché c'è una tecnologia incredibile all'interno di questo prodotto ma tanta tanta tecnologia che va appunto ad aiutarci in quello che sono le pulizie domestiche che dobbiamo fare quotidianamente o settimanalmente nelle nostre abitazioni. Ma prima di vedere da vicino facciamo un veloce unboxing per vedere cosa troviamo nella confezione. Un manuale quick starter anche in italiano, un filtro EPA di ricambio, un alimentatore per ricaricare la nostra scopa RH1, un supporto per gli accessori, un altro supporto per gli accessori, un manuale completo dove abbiamo anche la lingua italiana molto più dettagliato ovviamente del quick starter, un rullo di ricambio, uno scopettino per la pulizia della scopa con gancio di fissaggio e un liquido detergente da mettere nel serbatoio dell'acqua pulita per pulire i pavimenti. La base di ricarica e di pulizia della scopa, il manico dove abbiamo tutti e tre i tasti di controllo della scopa ed infine lei, il gioiellino EZ-Wiz per le pulizie RH1. Due serbatoi, una spazzola rotante e sensore che rileva l'intensità di sporco. Ed eccola qua, la nostra scopa EZ-Wiz RH1, un prodotto tecnologicamente avanzato. È incredibile come la tecnologia si sia integrata ormai anche in questa tipologia di prodotti, cioè in cose che normalmente erano totalmente manuali, adesso abbiamo una tecnologia incredibile. Allora, questa è la sua base di ricarica come abbiamo visto nella confezione che oltre che a ricaricare quello che è la nostra RH1 servirà anche per pulire ed asciugare il rullo RH1 che poi vedremo dopo come funziona anche questa procedura perché lei è in grado di fare anche questo, pulire il rullo una volta utilizzato e asciugarlo una volta utilizzato. Questi sono gli accessori in dotazione, abbiamo visto già nell'unboxing, quindi abbiamo un rullo di ricambio, una spazzola per pulire le parti sporche ovviamente che andranno a sporcarsi nel tempo e un filtro EPA di ricambio. Questi accessori li possiamo andare a fissare direttamente alla base con gli appositi ganci. Da questa parte andremo a mettere questo supporto per il filtro EPA di ricambio, mentre da questa parte andremo a mettere il supporto per il rullo di ricambio e la spazzola per pulire la scopa quando ce ne sarà la necessità. Come abbiamo detto lei è super tecnologica, infatti tutta questa parte è display e che ci dà tutte le informazioni con una grafica veramente accattivante, sembra quasi un'astronave, per quanto l'interfaccia sia molto futuristica. In più parla, parla in italiano. All'inizio dovremo andare a configurare la lingua, una volta configurata utilizzando il manuale quick starter che è veramente molto semplice, quel foglio che troviamo all'inizio quando apriamo la confezione, tenendo premuto questo pulsante centrale per tre secondi quando lei è sulla base di ricarica, entrerà in modalità cambio lingua, cliccando poi singolarmente tanti click andremo a spostare la lingua finché la sentiremo parlare in italiano. A quel punto ci fermiamo e lei è con la lingua italiana. E il bello è che parla e parla bene. Infatti adesso la andremo a sentire subito perché è davvero molto molto interessante anche questo aspetto. Prima di vedere invece la parte aspirante che poi è quella più importante, andiamo a vedere appunto la parte tecnologica, quindi quello che è il display e poi scendiamo e andiamo ad analizzare tutta la parte invece aspirante di pulizia di questa scopa RH1. Allora una volta inserita la scopa nella base di ricarica, perfetto, vedete che lei ha iniziato alla ricarica. Adesso è al 100%, quindi è carica al massimo e anche tutte le altre funzioni in questo momento sono spente perché non la stiamo utilizzando, ma guardate che bello il display anche solo per la ricarica, veramente fantastico. A questo punto lei sarebbe già pronta per essere utilizzata. Lei ha tre modalità di utilizzo, ha la modalità auto, quindi deciderà lei quanto gestire la potenza della scopa in base lo sporco che vede. Sì, perché qua sotto abbiamo un sensore che legge appunto la tipologia di sporco e riesce a capire quanto lo sporco è intenso e quindi è in grado ovviamente di andare a gestire la potenza e la gestione appunto aspirante e del rullo per quanto riguarda l'andare a rimuovere la macchia che c'è sul pavimento. Quindi su auto il sensore gestirà per noi la pulizia del pavimento, mentre abbiamo poi altre due funzioni, una funzione standard dove lei comunque farà un lavaggio appunto come dice la parola stesso standard, poi avremo una funzione invece aggressiva dove lei sarà sempre al massimo delle sue prestazioni perché noi abbiamo deciso che vogliamo che lei spinga al massimo perché sappiamo che quel pavimento è da pulire in maniera impeccabile ed è molto molto sporco. Quindi queste funzioni poi le vedremo anche queste dopo in azione e poi come vi ho detto abbiamo la funzione di pulitura del rullo automatica che lei farà stando nella base e asciugatura del rullo. Ovviamente lei essendo molto intelligente e tecnologica ci dirà quando questo cassetto dell'acqua sporca è pieno ci dirà che è da vuotare e tutte queste cose. Riguardante appunto il primo scomparto, quello dove viene raccolto tutto lo sporco. Qua abbiamo un filtro EPA che abbiamo visto ne abbiamo anche uno di ricambio e poi andando ovviamente ad aprirlo in questa maniera potremmo andare a vuotare e poi lavarlo sotto il rubinetto perché qua avremo tutta l'acqua sporca con anche ovviamente tutti i residui anche i corpi che ha raccolto a livello di briciole o fango o terra o quello che è che lei ha raccolto sarà tutto qua dentro. Ovviamente lei aspira lava e asciuga quindi il filtro EPA è importante per quello perché comunque lei va anche ad aspirare quello che è lo sporco quindi non dovremmo più aspirare prima il pavimento ma lei farà già tutto in uno quindi mentre passa aspira lava e asciuga perché comunque c'è un piccolo getto d'aria che va ad asciugare ovviamente non in maniera impeccabile perché rimarrà sempre un pelo umido il pavimento ma quell'umido che dopo pochi minuti se n'è andato quindi è veramente interessante che questo aspetto dove non dobbiamo lasciare soprattutto d'inverno la casa bagnata per un sacco di tempo mentre qua sopra abbiamo l'altro scomparto dove viene appunto inserita l'acqua pulita al suo interno dovremmo mettere acqua pulita e il detersivo che in questo caso è in dotazione ne va messo solo mezzo tappino all'interno di questo recipiente e questa riga qua ci dà appunto il limite di acqua da inserire quindi queste sono tutte le operazioni che dobbiamo fare per gestire questa scopa e zviz rh1 lei è dotata di una batteria da 4000 mAh che gli garantisce una pulizia di 200 metri quadri quindi 200 metri quadri secondo me sono veramente tanti quindi qualsiasi abitazione di gente comune e la può gestire tranquillamente con una carica della batteria quindi detto questo direi di provarla però in azione e di vedere come si comporta in varie situazioni ma prima di tutto dobbiamo andare a riempire il recipiente dell'acqua pulita e poi la mettiamo sotto pressione andiamo basta andare ad aprire il tappo sopra prendiamo il suo detersivo in dotazione ne riempiamo mezzo tappino lo rovesciamo all'interno del contenitore dopodiché andiamo ad aggiungere l'acqua l'acqua l'importante è che non superi 60 gradi però va bene il rubinetto uno difficilmente ha più di 60 gradi la temperatura dell'acqua quindi andiamo a riempirla fino alla riga che ci indica il livello massimo in cui dobbiamo arrivare perfetto chiudiamo il contenitore e siamo pronti andiamo a riagganciare il contenitore basta infilarlo e spingerlo mentre per toglierlo dobbiamo schiacciare questo pulsante mentre per metterlo non dobbiamo fare nient'altro che spingerlo quindi a questo punto lei è pronta ed è pronta a lavorare duro. la rimuoviamo dalla base appoggiamo un piede sopra alla spazzola in modo da sbloccare il manico e lei è pronta a partire guardate anche l'inclinazione comunque pur avendo questi recipienti è in grado di infilarsi abbastanza bene vedete sotto a quello che sono i mobili o il divano in questo caso quindi sebbene ha il suo ingombro perché questa parte è un serbatoio direi che si infila tranquillamente sotto la prima parte di quello che sono mobili o divano se hanno ovviamente un'altezza che lo permette quindi fatto questo andiamo ad accenderla basta tenere premuto qualche secondo il tasto d'accensione che è il primo qua sopra aspettiamo che lei si accende ecco qua avete visto il display che si è acceso vedete che adesso lei è in modalità auto e decide lei in base allo sporco e a quanto deve pulire come comportarsi il led azzurro ci indica questo qua intorno al display ci indica appunto lo stato del di utilizzo della scopa se io vado a cliccare adesso il tasto sotto a quello d'accensione una volta ecco l'ho messo in modalità standard vedete che è venuta fuori questo ventolina se schiaccio un'altra volta vedete che qua questa barra è salita perché è andata in modalità potenza massima quindi in questo momento lei sta sprigionando la massima potenza necessaria adesso la rimettiamo cliccando ancora in modalità auto e lei è pronta a pulire quindi io in questo caso potrei adesso tranquillamente passare tutta la casa però volevo farvela vedere in una situazione un po' più critica perché adesso ovviamente il pavimento della casa pur sporco che sia è sempre pulito volevo farvi vedere cosa è in grado di tirare su essendo una scopa che è in grado di aspirare pulire lavare e asciugare volevo farvela vedere appunto con qualcosa di un po' più impegnativo per spegnere basta cliccare una volta il tasto qua sopra perfetto sentite ok avete sentito spegnimento completato e vuotare acqua sporca come vi ho detto lei parla e parla tantissimo e poi parla bene si capisce benissimo quello che ci sta dicendo ma adesso direi di metterla sotto pressione con qualcosa di più impegnativo e vedere come si comporta questa EZWiZ RH1 in situazioni domestiche però un po' più impegnati di quello che è il pavimento chiamiamolo così già un po' più pulito però ricordate sempre che non lo dovete più aspirare e poi lavare con il mocio o con una scopa a vapore ma lei fa già tutto aspira lava e gli dà anche una prima asciugata quindi prendiamo gli accessori quindi prendiamo gli ingredienti per mettere sotto pressione lei e vediamo il suo comportamento quindi ecco i nostri ingredienti latte, passata di pomodoro, zucchero e cracker questi sono gli ingredienti che utilizzeremo per mettere sotto pressione la nostra scopa EZWiZ RH1 direi di iniziare con il latte quindi andiamo a versare un po' di latte che comunque è un prodotto che potrebbe cadere quando stiamo cucinando o comunque potrebbe caderci una tazza piena di latte potrebbe cadere un biberon pieno di latte andiamo ad accendere la nostra EZWiZ modalità auto ok, modalità auto, lei parte e questo è quello che succede se io adesso passo sul latte guardate che spettacolo praticamente non c'è più niente in un attimo ho raccolto il latte ma oltre ad averlo raccolto ho anche pulito adesso la fermiamo e andiamo ok, vuotare acqua sporca ce lo dice ogni volta che andiamo a spegnerla mentre quando è pieno il contenitore dell'acqua ci dirà proprio che è pieno il contenitore dell'acqua sporca vuotare acqua sporca perché abbiamo finito adesso di fare il lavoro allora proviamo con il passato di pomodoro pronti accensione modalità auto e via guardate in un attimo ho tirato su tutto poi vedete che la spazzola comunque ha preso un colorino adesso rossiccio lei continua a parlare si abbiamo capito cosa dobbiamo fare quando ti spegniamo comunque vedete che adesso è leggermente rosino perché è sporco di pomodoro se io adesso la vado a posizionare in quello che è la base di ricarica la andrò a pulire però prima di fare questo vi faccio vedere gli altri ingredienti poi facciamo appunto la pulizia e anche l'asciugatura della spazzola quindi vado a buttare giù adesso un po' di zucchero che è un altro ingrediente che potrebbe tranquillamente cadere nelle nostre abitazioni e lo zucchero è una di quelle cose che dà veramente fastidio quando cade andare a raccoglierlo e soprattutto magari lascia sempre un po' quell'appiccicaticcio se magari ci va insieme dell'acqua o qualcosa quindi andiamo a fare la nostra aspirazione accensione modalità auto e via guardate lo zucchero come è sparito pazzesco eh senza nessuna fatica lei ha raccolto lo zucchero adesso come ultima prova visto che comunque lei è una scopa aspirante proviamo con le briciole perché comunque le briciole nelle abitazioni sono all'ordine del giorno soprattutto se abbiamo bambini ma anche se a noi adulti comunque mentre mangiamo facciamo magari un merenda un aperitivo ci possono cadere delle briciole vediamo il suo comportamento nel caso cadano delle briciole ok direi che ne abbiamo messe abbastanza adesso sparate fino là vediamo adesso il suo comportamento con qualcosa di più solido dal punto di vista della consistenza quindi questo dovrebbe farci vedere anche dal punto di vista dell'aspirazione perché un aspirapolvere aspirerebbe tranquillamente queste briciole ma lei ovviamente deve aspirarle e anche lavare vediamo cosa è in grado di fare accensione modalità auto modalità auto e via guardate le briciole non ci sono più ma la cosa bella che le ha aspirate e allo stesso tempo ha lavato quello che è il pavimento cioè veramente pazzesco tutto senza la minima fatica ultima prova sì abbiamo capito allora come ultima prova volevo farvelo vedere su un pavimento sporco nel senso che ovviamente il pavimento di una casa difficilmente sporchissimo va pulito appunto perché viene pulito costantemente quindi con lei pulirlo una volta alla settimana due volte alla settimana diventa davvero semplice abbiamo sempre la casa molto igienizzata davvero molto pulita e in più con un unico passaggio quindi aspiriamo e laviamo e puliamo tutto insieme e questo ci permette ovviamente di guadagnare tempo e di avere secondo me anche la casa molto più pulita perché lo si può fare anche più spesso vediamo come si comporta con un pavimento più sporco quindi con lo sporco che potremmo avere su un pavimento magari di un garage quindi adesso ci spostiamo in garage dove il pavimento è sicuramente mercissimo rispetto a questo e vediamo come lei ce lo va a pulire in maniera davvero super semplice quindi direi che ci spostiamo in garage allora per farvi capire realmente quanto è sporco ovviamente il pavimento del garage dove si entrano con scarpe sporche si entra con le bici tutte queste cose che lasciano giù molto sporco ho preso un pezzo di carta l'ho bagnato per farvi vedere quanto è sporco il pavimento perfetto questo è quanto è sporco il pavimento in questo momento direi che fa abbastanza schifo adesso facciamo la prova lavando con la nostra ZWiZ RH1 e poi ripassiamo un fazzoletto di carta bianco per vedere come è diventato il pavimento dopo che è passata lei quindi accensione modalità auto sempre modalità auto ok e vado a pulire il pavimento il risultato dovrebbe essere molto migliore di prima adesso sto passando una zona più ampia così poi andrò ad appoggiare il fazzoletto in un'area dove non avevo diciamo passato prima con il fazzoletto di carta la piastrella così che a meno se uno mi dice no ma lì l'avevi già pulito te prima no adesso lo farò qua dove praticamente qua non ero arrivato con la con il fazzoletto di carta perché avevo fatto lì davanti vedete che lei ok sì allora vedete che lei non ha mai aumentato la potenza perché in questo caso sapeva di farcela con quella determinata potenza non è passata in modalità super aggressiva però come abbiamo visto potremmo noi decidere di farlo nel caso volessimo o meglio vediamo magari una macchia che lei non capisce che è una macchia da tirare via e quindi potremmo noi andare ad amplificare potremmo noi andare a potremmo noi andare a dirgli di aumentare la potenza allora il pavimento adesso dovrebbe essere bello pulito prendo la carta ho bagnato il pezzo di carta vado a passarlo qua dove non ero passato con il fazzoletto che invece avevo passato già lì quindi quest'area non l'avevo passata e guardate adesso il pavimento faccio un giro largo guardate che spettacolo praticamente è pulitissimo pulitissimo quindi avete visto che anche in una situazione domestica standard quindi un pavimento sporco da solo polvere e passaggi di scarpe e biciclette con che semplicità abbiamo fatto diventare pulito il pavimento con una semplicità veramente pazzesca a questo punto direi di tornare di sopra vuotiamo l'acqua sporca facciamo la pulizia della spazzola e facciamo anche l'asciugatura della spazzola andiamo perfetto eccoci qua la andiamo a mettere nella base di ricarica è iniziata la ricarica della batteria a questo punto dobbiamo andare a fare la pulizia della spazzola perché comunque sicuramente lei non è pulitissima si è vero che si è pulita poi andando rispetto magari allo sporco che aveva raccolto qua però sicuramente non è pulitissima allora per fare questo basterà premere il tasto di pulizia che è questo qua sotto ok qua si illumina la spia pulizia on e inizia la pulizia vedete che inizia piano quindi adesso gira a questa velocità dopodiché aumenterà in maniera notevole la potenza di rotazione dopo qualche secondo adesso aspettate un attimo e vedrete un aumento della potenza qua sta facendo la prima pulizia superficiale pulizia tubo ecco adesso vedete è andata al massimo della potenza e fa la pulizia quella diciamo più approfondita una volta finito ovviamente ci avviserà sempre parlando ok vedete che sta continuando a fare le sue cose riguardante la pulizia e alla fine ci avviserà di aver finito ci vuole un attimo però è questo ok vedete che adesso fa un altro tipo di pulizia fa tutti i passaggi fino a quando tutto è pulito quindi il rullo è pulito il tubo di aspirazione venga pulito e questo è molto importante soprattutto a noi non costa nessuna fatica adesso ci vuole ancora un attimo è un po' lunghino questo passaggio però secondo me è importante perché è una cosa che noi magari dovremmo fare manualmente invece lo fa lei in automatico e questo per noi che abbiamo delle case da tenere pulite è sicuramente interessante ecco ha finito l'auto ok vede ci dice di vuotare il serbatoio dell'acqua sporca quindi il rullo adesso è bello pulito infatti guardate ci passo la mano è pulitissimo adesso andremo a vuotare l'acqua sporca come ci ha detto ovviamente lei e Zbiz perché comunque ci tiene controllati a bacchetta dobbiamo andare a svuotarla l'acqua adesso sporca più o meno è a questo livello si vedono dentro anche tutti i cracker andiamo a vuotarla andiamo a rimuovere il filtro a togliere quello che è il coperchio e andiamo a vuotare l'acqua sporca guardate questo è tutto quello che ha raccolto la nostra scopa RH1 andiamo a sciacquare guardate tutti i pezzi di cracker poi basterà ovviamente andare a sciacquare tutti i vari accessori andiamo a rimontare il tutto filtro EPA vediamo una sciacquata andiamo a rimontarlo e siamo pronti per andare a fare l'asciugatura della spazzola andiamo a reinserire il contenitore dell'acqua sporca e andiamo a fare l'asciugatura per fare l'asciugatura è semplice basterà premere una volta il tasto sotto a quello d'accensione asciugatura spazzola rotante ok ci ha detto che sta per fare l'asciugatura e qua si è attivato appunto il simbolo dell'asciugatura l'asciugatura come funziona ogni tot minuti mentre la nostra EZ-Viz RH1 si sta ricaricando la spazzola ogni tanto gira e ovviamente con l'aria generata appunto che è quello che serve ad asciugare anche il pavimento va ad asciugare la spazzola quindi ogni tot minuti lei farà fare una rotazione alla spazzola e gli spruzza addosso l'aria per l'asciugatura e questo è un altro processo che è in grado di fare tutto da sola questa EZ-Viz RH1 per spegnerla clicchiamo asciugatura spazzola rotante off ok abbiamo spento anche l'asciugatura con un click quindi in questo momento adesso lei l'avrei potuta lasciare asciugare o comunque adesso la lasciamo in carica e sarà pronta per il nuovo lavaggio che magari potremo fare domani o in caso accidentale se ci cada qualcosa e siamo subito pronti a pulire in maniera impeccabile e l'ultima cosa che voglio farvi vedere è la sostituzione del rullo dobbiamo rimuoverla dalla base cliccare il tasto qua laterale vedete che si sgancia il rullo ed ecco qua che il nostro rullo è pronto per essere magari lavato direttamente da noi o sostituito con quello di ricambio quindi magari questo noi lo andiamo a lavare e poi lo andiamo a sostituire con questo che abbiamo in dotazione di ricambio mentre questo magari aspettiamo che si asciughi perché l'abbiamo lavato o dobbiamo aspettare di andare a lavarlo lo rinseriamo ed ecco che voilà che è pronta con un rullo nuovo o rullo lavato quindi ragazzi se questo mio video in cui vi ho portato la mia recensione di lei la scopa EZ-Viz RH1 una scopa per pulire la casa tecnologicamente avanzata con sensori di rilevamento di sporco dove aspira, lava e asciuga in un'unica passata è davvero tanta tanta roba lei la trovate direttamente su Amazon vi lascio qua sotto il link in descrizione il prezzo attuale in questo momento è di circa 327 euro ma li vale tutti perché qui ragazzi abbiamo qualcosa che aspira, lava, asciuga cioè tutto in maniera super semplice e con una tecnologia incredibile con un sensore che rileva pure lo sporco cioè pazzesca un prodotto che unisce una tecnologia secondo me fantastica a qualcosa che normalmente è molto molto manuale cioè lavare i pavimenti quindi ve la straconsiglio guardate il link qua sotto in descrizione perché EZ-Viz vende direttamente su Amazon e quindi avete tutte le garanzie di Amazon nel post vendita quindi un prodotto che vi consiglio di acquistare perché vi cambierà la vita a voi e alle vostre compagni avrete una casa pulita sarete meno stanchi avrete sempre più voglia di pulirla perché con questa fate veramente poca poca fatica e il risultato è pazzesco quindi se questa mia recensione l'avete trovata utile ed interessante lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su Instagram dove porto tante novità anteprime spoiler dei prodotti che arriveranno sempre qua sul canale sempre se vi va ragazzi iscrivete al mio canale Telegram offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti ai drone e tutta la tecnologia in generale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video un volo un'accensione un test un tutorial una novità ciao e al prossimo video